calco allora perfetto 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 ok c'è l'orezza oh non è un promesso a fuoco grande qua il mio canale allora dai faccio così faccio così riprovo allora qua ciao martin ciao ok allora condividi condividi cosa cazzo sta alza audio no no so io che sto a o so lontano allora ecco allora condividi non c'è qua condividi su telegram i veri dodoni qua allora ok fissato in teoria se io vado su fifa 21 e clicco mi dovrebbe vedere abbastanza bene in teoria in prega non lo so e fammi sapere ma come me vedi come me senti se me senti bene ora ok come me senti jaco come sto meglio mi sentite pure dei piume se vedete me so incredibile a del clamoroso che cos'è questa cosa qua ok no allora qua ingrandiamola così esatto oh ah oh ok c'è è nel prova 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 dovrebbe andare tutta una bomba in teoria pure col sink dovrebbe dovrei starci in teoria in pratica non lo so si vede va tutto ti vede bene ti si sente bene ok si vede dovrebbe essere ma pure meglio si vede cioè tanto tanto meglio oppure no perché io io nella su obs mi vedo un sacco bene e so che jaco lo so chi sei non è che me dovrei vedere abbastanza bene mo faccio faccio tipo una prova e metto la partita metto una partita metto calcio d'inizio e gioco un pochettino e e ve faccio vedere aspettate che magari faccio così faccio così accendo la luce che è meglio in teoria così mi dovrei vedere bene ma è ancora meglio se mi metto a fuoco sarebbe ancora clamoroso in teoria mi dovrei vedere abbastanza bene in teoria in pratica non lo so vai se dovrebbe vedere tutto a posto in teoria in pratica non lo so partita classica a proposito vediamo un attimo il sink se va tutto bene allora partita classica regole speciali volta football uefa champions league commable finale di coppa andata e ritorno dovrei essere in sink in teoria se non so in sink sto in mezzo da merda semplice proprio italiano meglio di così pure con i colori dovrei dovrei starci in teoria dovrei starci anche a colori partita classica rega scrivete se ci state scrivete sarebbe fantastico a meno mi fate merite pure voi perché non me lo vedete da solo in teoria dovrebbe andare tutto in sink infatti io in teoria mi vedo in sink mi vedo io mi vedo in sink mi vedo vediamo gioco da partita cazzo oh ma entra male sto deficiente ah proviamo proviamo a fare due tre giocatine allora dai dai schippa schippa andiamo avanti via via ok vai io vedete se si vede bene è fluido il gameplay ecco fammi vedere se si vede bene magari ecco magari la gamma quando gioco deve essere un po' più piccoletta ricordamoselo in teoria si ok si si se dovrebbe vedere bello fluido quanto sto usando dei cpu 70 da tenere a mente ok perfetto ci dovresti stare vediamo un po' qua fate qua fai questo fai questo mandi di bala finta finta tiro a giro rete rete vediamo se va in sync in teoria dovrebbe essere tutto in sync in teoria in pratica non lo so dovrei essere però dovrei starci il gameplay è giusto spero si potrebbe ingrandire un po' la gamma ma non so se si può ingrandirla cioè non so se si può mettere più vicino ma non lo so pare di si il tiro di ramse rete ok quando gioco deve essere più piccolo la gamma ok io qua vedo tutto in sync quindi mi pare mi pare mi pare world perfetto se potrebbe pure togli se fa così se va su termina partita si esce apri widget che cazzo è qua analisi posazione latenza normale ok torno indietro torno indietro ultime team fammi clicca ma io spero ovviamente che anche su twitch si vada tutto a posto perché se no sono mezza alla gnugna allora perché io così mi vedo bene il problema è poi quando ingrandisco black of re day tu sorella mi madre e sto cazzo ah evento dell'anno domani vedi io la mi vedo molto bene se io facessi oh le che ho venduto un'altra carta se gode buono un altro grimaldo a 34 a posto a guerra quanto sta allora a g u e a gu ero serghi agguero 40 quanti ce ne stanno a 40 pochi stanno aumentare se gode no ma se ci siamo già mi apri ora i premi adesso mo ma sto su youtube non so quanto te conviene ti conviene mo io ti posso aprire pure su youtube ma se per se ci stanno problemi te li apro qua no su twitch per me n'è un problema mi fai share play mo cazzo me frega così vediamo pure se worka tutto cazzo a me lo sai che me frega niente però non so se ti interessa così te faccio subito io ho trovato fernando e berardi mica male ok aspettate che fatemi rimettere questi in mercato c'ho due cose quanti a che mi sono rimasti 0 a che meno male vai dai l'invito porca troia mi inviti si che cazzo me frega a voglia oh router joystick finita vai volentieri invitami invitami oh anche il gabbone adesso dovrebbe essere tutto in sync ok se è tutto in sync basta mo sono diventato uno youtuber vai invitami ti ha ti ha butto là invitami eh a me che cazzo me frega allora qua qualche obiettivello ce l'ho ma che c'ho qua ma io devo fare la squadra di là devo fare ancora allora vabbè no di là li prendo dopo i credi li prendiamo dopo dai raga mi danno a tagliare i peli dai su che c'ho da fa dopo che sto ole vai sharp playami sharp playami di tutto vediamo se worka tutto voi datemi un feedback vai ci sto io spero io ovviamente mo se troviamo un coso se troviamo un come si dice una bandiera o roba simile ovviamente aprofifo un attimo ok ok e ovviamente se trovo una bandiera faccio il coso eh dico quello che trovo cioè vado così proviamo a vedere se va in sync per forza se no oh però vi metto la musica tanto qua posso fare come cazzo mi pare vi metto così no me voglio me voglio dei prime aspetta dove sta famoso e se sente bottiglie prive tg ehi basta ma che me manca ma tu madre me manca la famiglia aspettate se mette bottiglie la famiglia non è vero così se va lo so è mi tu mi sei io come sai di conia il misuro so già cosa vuoi spengo la tv tu prepreparai il gioco non è vero così e poi e poi attenzione primi pacchi del food champions sa che ora è 4 così la sento pure io oh in teoria dovrebbe andare tutto in sync se nessuno scrive il cazzo io apro allora prima il food champions dai su se trovo se trovo Ronaldo spacco casa eh più della Wii vai food champions dai dai sto tornando su youtube è tutto già scritto è tutto già scritto io era solo una prova ho detto vabbè ho dieci minuti poi è tempo che mi dovrei fare pure una doccia attenzionavo scelgiamo per bene vai uno e e due vai cristiano marcello ma vabbè marcelito marcelito vabbè dai vai secondo picchetto mamma mia oh plano eh plano mamma mia ma rega se faccio così è perché sto a leggere la chat di là si cavolo non mi frega il giusto che merda e la Wii allora ma che faccio apro tutto apro tutto apri tutto se gode 81 o più vai allora rega ditemi se la voce arriva giusta giusta col gameplay ok ditemi questo scrivetemelo cioè se ve ne accorgete che sto che è fuori sync scrivetemelo così devo sistemare perché sennò è tutto un cazzo che sto su youtube eeeh allora zinco zinco mega zinco rari taglio su storia allora bandierina oh bandiera faccio la descrizione portoghese td dell'eister per eira non male e poi e poi vabbè oh tutta col club eh do se mi dicevi che andavi in live prima te facevo apri i miei ma che ma sto su youtube ma per fare rega ma per no ma se con l'altro li apro sul coso cazzo ne so qua era per provare eh fatemi un attimo provare raga più che altro dove se lagga se non funziona se va tutto buono buono perfetta oh ok ottimo ottimo no che potevo mettere mettiamo vabbè si lascia oh mi dice che le manco da morire quando stavamo c'è che questa relazione è ormai arrivata alla fine ok 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 oh pacchetto mega dai su walk out no bandiera o faccio la descrizione belgio dc der benfiga proprio lui andel bayard overtogan uno di due io li ho aperti prima perché alle 18 ho un impegno mortacci tua eh vabbè ma qua ho capito ma scuse ma sto su youtube ma non ti pare che mi fai aprire i pacchi su youtube e dopo un walk out non lo potresti trovare pensi in te hollywood hollywood ma adesso ho dei problemi adesso non ce li ho più walk out no mamma chi è andrata insomma audio perfetto si gode bene si gode si gode vai tre rari ci avemo dai apriamo quello mezzo vai e poi vieni tanto sto su youtube mi frega il cazzo oh niente 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 non lo riuscimo occhio te vedi mamma che schifo ma che cos'è questa roba però c'è che devo andare ma svegliate dai walk out dai su da accesso walk out o schifo o schifo sei walk out o schifo mamma mia mannaggia brasile ts marcello oh alexandro sei gode 85 dai schifo 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 che quasi ci avevo fretta problemi adesso non ce li ho più schifo ma fatta una affanculo d'accordo pasta e merda oh ma tu cugino saluta i due spec ciao ragazzi oh ma fatta una affanculo oh effetto 10k se gode grecia ma chi cazzo troviamo ah ecco mamma mia era meglio se ti facciamo i cazzi nostri oh vabbè se il radio va tutto bene perfetto a posto se siamo visti oh 10k non è vero aspetta no 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 meno male oh che merda basta schifo sto schifo vai esco eh grazie che mi hai fatto pure la sync a posto vabbè io stacco se sentimo ai 19 basta basta staccamo salai grazie mi hai detto che era tutto perfetto ci vediamo dopo ciao cabone ciao ciao belli ci vediamo dopo ciao ciao